Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Lorenzo Guasti che è il referente del progetto MECRAT Scuola che si sviluppa all'interno dell'Indire. Questo è un progetto estremamente ampio ed estremamente articolato perché comprende al suo interno diversi sottoprogetti. È un progetto che è nato già alcuni anni fa, ormai sono circa 7-8 anni che procede. Ecco Lorenzo Guasti ci spieghi un po' in sintesi di che cosa si tratta, cioè questo grosso cappello MECRAT Scuola che cos'è e poi che cosa contiene? Ma diciamo che io sono un tecnologo, un ricercatore tecnologo all'interno dell'Indire e quindi comunque mi occupo di aspetti tecnologici e però me ne occupo da un punto di vista della ricerca. Quello che mi interessava fin dall'inizio della mia attività in questo ambito è capire le interazioni tra quello che viene definito il mondo dei MECRAT, cioè tutti quegli artigiani, quei tecnici e anche professori di scuola che operano all'interno dei Fab Lab e dei MECRAT SPACE, ecco come quel mondo interagisse con la scuola. L'ho fatto appunto in maniera articolata, cioè quindi declinando il progetto in vari ambiti. Uno diciamo un po' più teorico riguarda la scrittura di un manifesto che è appunto il manifesto dei MECRAT SPACE scolastici, cioè un po' l'idea che l'ho fatto insieme a miei colleghi Giovanni Nulli ed altri di ipotizzare qual è una situazione ottimale in cui un laboratorio di tipo MECRAT SPACE può stare all'interno di una scuola. Poi ho anche appunto declinato il progetto in modo un po' più applicativo e pratico nell'ambito della didattica laboratoriale. Ecco all'interno di questo grande cappello ci sono diversi pezzi, diversi aspetti. Uno molto interessante riguarda le stampanti 3D. Ecco voi con le stampanti 3D che cosa fate, che cosa proponete, quali risultati state ottenendo? Abbiamo iniziato un po' per scommessa in quanto in quel momento 2014-2015 la stampante 3D era uno strumento che stava iniziando a diffondersi sia nel mondo dell'industria ma anche della scuola e si stava diffondendo in modo un po' come dire casuale. Allora l'Indire come istituto di ricerca ha detto bene proviamo a razionalizzare un po' questa applicazione di questa strumentazione a scuola e cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di applicare l'uso della stampante 3D anche in scuole dell'infanzia con cicli di design molto semplici come ad esempio il Think Make Improve dove si insegna ai bambini anche molto giovani a approcciare all'errore in maniera positiva. La stampante 3D ci consente di vedere l'errore perché se io progetto male un pezzo lo vedo una volta lo stampato. Il bambino o lo studente anche più grande non si demoralizza davanti all'errore ma capisce che attraverso cicli di miglioramento e di design otterrà alla fine l'oggetto voluto. Quindi ovviamente a noi non ci interessava che i ragazzi diventassero esperti di stampa 3D ma anzi diventassero esperti di come dire approccio positivo all'errore e quindi anche alla vita. Senti però io leggendo e documentandomi un po' nel sito dell'Indire e proprio leggendo un po' di materiale su questo vostro progetto ho letto una cosa molto interessante cioè voi dite attraverso l'uso della stampante 3D però si sviluppano anche competenze di natura sociale. Ecco che cosa intendete dire? Quali sono queste competenze sociali? Che cosa ha a che fare la competenza sociale con una stampante 3D? La filosofia di lavoro maker prevede un livello di peer education cioè quindi di scambio di informazioni molto alto e l'insegnante si pone in un ruolo di mentor e di animatore e facilitatore della classe. Quindi cosa succede? Davanti a compiti anche relativamente complessi gli studenti si confrontano, parlano, si aiutano, cercano di esprimere all'insegnante e soprattutto ai compagni quello che stanno facendo, quello che vorrebbero fare e come mai ad esempio certe cose non sono venute come pensavano. Tutto questo lavoro di riflessione e di esposizione verbale davanti alla lim, davanti alla stampante 3D, davanti al pezzo di plastica tenuto in mano che è un'altra parte fondamentale cioè il fatto di andare dal compagno e dall'insegnante con il pezzo stampato e poter quindi argomentare il successo o l'eventuale errore con un pezzo di plastica che è il tuo oggetto in mano. Tutta questa dinamica che è fondante di quello che succede nei makerspace, nei fablab dove si condivide il sapere, porta a un'acquisizione, un miglioramento di tutte quelle metacompetenze sociali che la scuola è giusto che faccia sviluppare. Senti un altro pezzo molto importante e molto interessante, direi molto innovativo anche di questo maxiprogetto è quello che riguarda le serre idroponiche, ecco perché vi siete un po' appassionati di questo tema, cioè non bastava un orto didattico? Allora è proprio l'esperienza acquisita con le stampanti 3D che ci ha fatto riflettere sull'utilità della serra idroponica, le cose delle volte succedono un po' per caso, nel senso io ho conosciuto un imprenditore che stava costruendo una enorme serra idroponica industriale in Maremma a cui devo il merito di avermi fatto venire l'idea grazie ai suoi suggerimenti e le nostre esperienze di didattica laboratoriale ci hanno fatto, come dire, unire questi due concetti e capire che c'era spazio per una ricerca in ambito di innovazione della didattica laboratoriale, ma perché? Perché la serra idroponica un'altra volta dopo la stampante 3D è un oggetto che permette di vedere ciò che accade, nella serra idroponica si vede molto bene quali sono le variabili in gioco, ad esempio l'acqua, la luce e il nutriente. Allora, sempre per una serie di casualità che ovviamente non sono esattamente, come dire, casuali perché il nostro lavoro è quello di conoscere altri ricercatori, altre università, ma in una mia visita a Stanford, all'università americana, ho conosciuto un gruppo di lavoro che applicava una metodologia che si chiama bifocal modeling. Unendo queste, come dire, queste coincidenze professionali ovviamente, è successo che il bifocal modeling si prestava benissimo ad essere applicato con la serra idroponica, perché il bifocal modeling suggerisce di gestire una esperienza, diciamo, scientifica come quella della crescita della pianta, in maniera attiva con due momenti più importanti, che sono l'osservazione e la misurazione delle variabili e la modellizzazione. Quindi la serra idroponica funzionava bene perché è un microambiente isolato dove è possibile misurare bene le variabili in gioco, osservare attentamente la crescita della pianta, perché la serra idroponica è una scatolina che si può tenere sul banco o sulla cattedra e nello stesso tempo ci consentiva di, anche con bambini molto piccoli, di applicare dei modelli. Modello vuol dire individuare le variabili, descrivere il fenomeno semplificandolo attraverso l'interazione delle variabili in gioco ed come ultimo compito della modellizzazione è quella di fare previsioni. Nelle classi dei bambini dell'infanzia, dei primi anni della primaria semplicemente veniva chiesto di fare dei disegni con delle fish mobili in cui loro mettevano e toglievano le variabili e poi gli veniva chiesto di prevedere cosa poteva succedere se alla pianta gli toglievamo l'acqua, la luce o il nutriente o addirittura per esempio togliere l'aria, variabile che ha creato una discussione enorme perché la pianta cresce senza l'aria ma i bambini spesso non lo sanno e quindi queste previsioni che poi andavano verificate sono state molto interessanti. Beh quindi insomma i bambini che fanno gli scienziati veramente nel vero senso della parola perché il lavoro dello scienziato è proprio quello cioè controllare le variabili e modificarle per vedere che cosa succede, è così? Io credo che in questo momento si sia usata la parola giusta, perfetta, cioè la didattica laboratoriale per esperimenti non è più frontale con l'insegnante che alla cattedra fa l'esperimento e il bambino, il ragazzo lo subisce tra virgolette ma lo studente diventa scienziato, osserva attentamente, tiene un diario dell'osservazione, individua le variabili ed eventualmente in base alle competenze acquisite e a livello insomma all'età e a livello della classe inizia a fare dei piccoli modelli di descrizione e di previsione perché il modello serve per descrivere il fenomeno e eventualmente anche per prevedere il comportamento. Quante sono le scuole italiane e le classi italiane che fanno riferimento a questi vostri progetti? Allora sulla stampante 3D sono tantissime, si parla di centinaia di scuole e ogni tanto siamo noi che dobbiamo un po' stoppare il rapporto diretto ma non perché noi siamo felicissimi ma essendo un gruppo molto ristretto ora cerchiamo di fare una formazione a distanza e una documentazione tramite un portale perché i numeri sono veramente tanti e noi siamo pochi, cioè direi è un progetto nazionale esteso a centinaia di scuole. Sulla serie idroponica i numeri stanno crescendo, il primo pilota erano cinque scuole, adesso si è concluso da poco una sperimentazione con tutte le scuole dell'isola d'Elba nell'ambito di un progetto che si chiama Piccole Scuole dell'Indire, il mio era un modulo e quindi era una cinquantina di scuole e grazie al portale adesso si sta diffondendo anche questo a livello nazionale e abbiamo continuamente richieste di adesione. Quindi diciamo sono progetti che nascono pilota perché devono verificarsi certe condizioni che sia fattibile e abbia dei vantaggi da un punto di vista pedagogico e didattico in classe. Una volta che si inizia a avere dei risultati, delle prove, allora si estende il progetto a numeri più grandi. Per quanto riguarda Bifocal, oltre alla serra, adesso stiamo iniziando a sperimentare la diffusione di inchiostro nell'acqua di diversa temperatura e il pendolo. Anche il pendolo, grazie a un incontro fortuito con due insegnanti molto bravi, Chirico e Brondo, che hanno fatto un libro sulla fisica alle elementari, l'abbiamo incontrati, loro fanno una bellissima esperienza sul pendolo e io ora sto provando a applicare il Bifocal su questa esperienza. Bene, e progetti futuri? Quindi uno ce lo hai già detto, che è questo lavoro, questa ricerca sul pendolo, altri progetti? Allora, tornando a una delle prime cose che vi ho detto, cioè il manifesto dei makerspace scolastici che era orientato alla scuola primaria, un progetto che è tuttora in corso, è quello di estendere questa analisi dei makerspace e dei fablab alla scuola secondaria di secondo grado che è un ambito molto più complesso perché è eterogeneo, perché le discipline sono molto forti come entità all'interno di queste scuole e dove in questo momento stiamo studiando con attenzione, perché non è semplice, come si configurano i fablab e i makerspace in questo grado di scuola. Grazie a Lorenzo Guasti per queste narrazioni che ci ha fatto, per queste suggestioni, per questi suggerimenti, grazie anche alle scuole che stanno lavorando su questo e mille auguri per il futuro. Grazie ancora. Grazie.